Stanno lì sul commento Gigione Maresca con l'avvocato Gianfranco Palomba e un altro amico che ha percorso Franco Palomba alla grande avete fatto una bella gara lo so perché ho parlato anche con amici che hanno già commentato la gara con questo passaggio sono gli ultimi mesi sotto la pioggia ma siamo a casa nostra e ci divertiamo molto a casa nostra un messaggio giù noi lo facciamo per divertimento divertimento sport dal calcio all'atletica qui abbiamo un'altra ex campionessa non è proprio ex perché l'ho vista correre in questi giorni e stava davanti a me e anche l'improverato grazie ragazzi Cosiano News è attenta allo sport vero, allo sport sano, all'allegria, all'allegria ci fa sorridere e la vita ci rende più belli forza Napoli, forza Napoli, forza Napoli, forza Napoli, avvocato forza Napoli, forza Napoli